L'inclusione scolastica non è solamente un elemento fondamentale della scuola italiana ma anche un principio centrale della Costituzione. L'articolo 34 della Carta Costituzionale garantisce infatti il diritto allo studio mentre l'articolo 3 coniuga questo diritto con il principio di uguaglianza. Infine l'articolo 38 della nostra Costituzione tratta esplicitamente del diritto allo studio delle persone con disabilità affermando nello specifico che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Un dibattito che non deve mai uscire dal contenzioso politico per raggiungere quei livelli di civiltà che la nostra Costituzione richiede. Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale Renato Perrini. Sono in aumento soprattutto i casi di autismo. È una battaglia che a livello di partito e soprattutto a livello della mia commissione sto portando avanti perché è una situazione che non lo so cosa sta a succedere ma è un forte aumento dei casi di autismo come anche altre disabilità. Abbiamo un problema serio in provincia d'Italia ma anche in Puglia e anzi faccio gli auguri a chi si candida all'Europa e di prendere al cuore anche a livello europeo perché c'è bisogno di risorse e di cambiare il sistema sanitario perché di tante cose si sta parlando durante questa campagna elettorale ma non si stanno parlando di temi come la sanità. Bisognerebbe parlare ancora di più di inclusività. Ho presentato tant'ementamente su questa situazione qua. Abbiamo fatto proposte di legge. È una situazione che io vivo tutti i giorni. Ci deve essere inclusione ancora di più. Devo dire ringrazio soprattutto i professori, le scuole che si stanno impegnando però l'istituzione che la politica deve fare di più perché i ragazzi devono stare insieme, devono giocare insieme, devono studiare e vi dico una cosa, i ragazzi stanno molto più avanti rispetto a noi.